Buonasera a tutti, sono un simpatizzante del PLF di Benevento e sono quattro anni che sono associato con loro e mi trovo bene, abbiamo fatto delle gite stupende, stanno delle persone squisite, io fino adesso sto con altre associazioni, questa qua la vedo più combattere, esperti di fare gite, di fare pranzi, gare sportive, andando con i gruppi si imbannano molte cose, si sta a contatto con tante persone, troverai dei colti, meno colti, però la finitura impari sempre a coltare. Volevo chiedere che ne pensi di questo soggiorno? Questo soggiorno è bellissimo, l'unica differenza è la spiaggia, il posto dove stiamo noi però, però altri posti sono in grande modo, però nella vita non si può avere tutto, bisogna condannarsi, quello è il problema, tanti chissà cosa vorrebbero, diciamo in ferie, con quei soldi che si pagano, non pochi o tanti pensano di avere chi, la luna, ma la luna non si compra e non si vende, allora uno va e dice vado a passare questi 10, 12, 13 giorni di stare tranquillo e godersi la vita con gli altri amici e passare delle ottime giornate, la finitura, questa è quella che condizia il resto. E allora consiglieresti un prossimo soggiorno ad altri? Sì, lo consiglierei, la Sardegna è bellissima, tutti i posti sono incantevoli, con la sciata verde si può anche trovare delle inconvenienze, ma purtroppo la inconvenienza è una cosa all'ordine del giovane, non è che, poi come dice, non tutte le ciambelle vengono col buco e allora a condenarsi si sta sempre bene. Ok.